Giuseppe, inevitabilmente siete finiti anche voi al centro di queste polemiche, che cosa risponde? Purtroppo siamo finiti in mezzo, ma io non posso far altro che ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport di Fano in quanto hanno dato la casa ad uno sport e ad una società sportiva che per 40 anni non ha mai chiesto niente in quanto è sempre dal 1981 che lavoriamo con dei capannoni presi da noi, stiamo ancora pagando il leasing dove sono passati migliaia in questi anni, migliaia di bambini fanesi a fare attività di ginnastica artistica. E come ha già spiegato anche l'assessore Brunori, questa palestra si adatta alle vostre esigenze per questioni di altezze? Esatto, fino a qualche tempo fa i ragazzi appunto erano più piccoli e al trampolino spingevano diciamo non tanto e non arrivavano a toccare il soffitto. Adesso sono cresciuti, tant'è vero che fra pochi giorni partiamo per i campionati del mondo a Baku in Azerbaijan, sono cresciuti e dove eravamo prima toccavamo il soffitto e non ci si poteva più allenare perciò eravamo veramente in mezzo alla strada. E quindi questi spazi per voi sono fondamentali per preparare i campionati? Assolutamente fondamentali, noi stiamo preparando in questo momento il campionato del mondo a Baku in Azerbaijan ma soprattutto stiamo preparando in questo quadriennio le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 e se non avevamo questo spazio non potevamo assolutamente allenarci. Come ripeto eravamo in un capannone dove l'altezza non ci permetteva di allenarci perché tutti i ragazzi e le ragazze toccavano il soffitto. Che messaggio vuole lanciare alla cittadinanza? Io come ho detto prima mi dispiace di essere stato in mezzo a tutto questo caos perché secondo me l'amministrazione comunale ha fatto quello che doveva fare cioè ha dato la casa ad uno sport che non ce l'aveva dove si allenano bambini anche fanesi oltre che da tutte le altre parti d'Italia anche e non vedo il perché non dovevamo averla noi perché dovevamo rimanere fuori da tutto dato che siamo una società fanese.